Marshall McLuhan, che tutti conosciamo come lo studioso della comunicazione, del mezzo, del messaggio e anche del villaggio globale, ha vissuto per 25 anni un'altra profonda esperienza personale, quella della conversione da protestantesimo al cattolicesimo nella sua terra d'origine, il Canada, e poi successivamente durante i suoi studi in Inghilterra. Così si è interrogato anche sul destino della Chiesa e si è data una risposta. Di fronte alle sfide della società digitale, la comunità cristiana non ha che una scelta, quella di convocare un nuovo grande concilio, il concilio Vaticano III, per affrontare i profondi cambiamenti del villaggio globale verso una società post-alfabetica che sia fatta di solidarietà e non di contrasti, di pace e non di guerra, come già aveva immaginato e profetizzato il Cardinal Martini. Questo libro ripercorre tutte le tappe della sua riflessione sul destino personale e del mondo.